Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Pensavate che il VanGate potesse finire con la 36esima puntata del GF VIP7? Al contrario, si sta sempre più infittendo e su Twitter, in merito allo spiato appartamento di Cinecittà, non si sta parlando d'altro C'è qualcosa che i telespettatori non sanno sulla scandalosa storia. Michelin Corvai ha minacciato il ritiro nel caso esca tutta la verità Lei ed Edoardo Tavassi hanno riaperto il tutto, timore per altre frasi incriminate La coppia teme che nell'imminente prossima puntata, Alfonso Signorini e gli autori possano mostrare gli altri pezzi, finora omessi, del video che documenta quanto accaduto, e soprattutto detto, quella nottata tra loro, Nicole Muggia ed Edoardo Donna Maria Se così fosse, Nicole in Corvaia vorrebbe andarsene dalla dimora del GF VIP7, addirittura Ovviamente, mentre loro cercano di nascondersi, il web è curiosissimo GF VIP, il timore di Tavassi e Michel per quel video.Oltre a quelle mostrate e raccontate durante l'ultima puntata del GF VIP7, sarebbero state dette anche altre frasi in grado di compromettere seriamente il percorso di Michelin Corvaia, Edoardo Tavassi, Nicole Muggia ed Edoardo Donna Maria nel reality, mettendoli in cattiva luce di fronte agli spettatori Gli utenti, su Twitter, intanto, hanno iniziato una campagna Sostengono di avere il diritto di sapere tutta la verità. Basta vogliamo sapere, come pubblico ne abbiamo il diritto, allora è veramente grave, ditecelo su Hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere e ci indebolisce, ha dichiarato Edoardo Tavassi parlando con la fidanzata Michelin Corvaia, riaprendo così un argomento fin troppo scomodo e delicato Ed ecco che, di conseguenza, ovviamente la platea ha aperto bene le orecchie, insospettendosi molto più di prima Parlando ancora una volta del Van Gate, i due fratelli d'arte si sono dati la zappa sui pieni Protetti, Alfonso tira fuori la verità, ma sono scemi a riparlarne? È ora di sputare il rospo, in rete Dopo la considerazione del fratello di Guendalina Tavassi, la sorella di Clizia in Corvaia si è detta decisa ad uscire dal GF VIP 7, nel caso uscisse tutto il contenuto della misteriosa chiacchierata vissuta con lui, Nicole Muggia ed Edoardo Donna Maria, ci hanno detto di stare tranquilli, quel giorno me è andato bene, se tirano fuori altre cose, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado Lui, invece di consolarla, le ha risposto, ma per forza. Cosa che ha fatto rendere conto a tutti i fandom della gravità della situazione Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti